dopo costantino l'impero attraversò un momento difficile sia per le lotte interne per il potere sia per la pressione sempre più forte dei goti i goti una popolazione germanica originaria della scandinavia premevano sul confine danubiano perché sospinti da un'altra popolazione gli unni solo con il generale spagnolo teodosio l'impero ritrovò la sua stabilità nel 382 il nuovo imperatore riuscì a pacificare i goti insediandoli in mesia e in traccia come federati cioè come alleati i popoli barbari si stabilivano in una regione dell'impero impegnandosi a difenderla da altri invasori teodosio non solo consentì a intere popolazioni germaniche distanziarsi all'interno del confine romano ma ricorse anche al massiccio reclutamento di germani un'altra popolazione barbara per rinforzare l'esercito tale politica basata sul principio di combattere i barbari con i barbari comportava una crescente germanizzazione della società che provocò le critiche di molti ma permise all'impero di resistere alla pressione barbarica per qualche decennio con teodosio si compì inoltre un passo decisivo verso l'integrazione del cristianesimo nelle strutture dell'impero a differenza di costantino che ricevette il battesimo solo in punto di morte teodosio era un imperatore cristiano anche per tradizioni familiari i problemi dei rapporti tra stato e chiesa erano dunque al centro dei suoi interessi per questo nel 380 dopo cristo promulgò l'editto di tessalonica in cui proclamava il cristianesimo religione di stato il cristianesimo diventò così l'unica religione lecita dell'impero romano come tale essa iniziò a godere dei privilegi dapprima riservati alla religione romana nel 391 con un altro editto teodosio proibì i riti religiosi pagani anche se compiuti in forma privata e i sacrifici di animali le resistenze pagane erano tuttavia ancora forti e ciò indusse il governo imperiale a perseguitare coloro che si rifiutavano di aderire al cristianesimo poco prima di morire nel gennaio del 395 dopo cristo teodosio decise di lasciare l'impero ai suoi due figli l'occidente a onorio e l'oriente ad arcadio sperando con tale provvedimento di garantire la sicurezza e la stabilità in realtà tale divisione col tempo diventerà definitiva e le due parti dell'impero avranno destini molto diversi ahhh and that's all folks and that's all folks